A tutti una buona giornata, le previsioni per oggi, ancora una giornata soleggiata con un po' di foschia, all'alba qualche brinata sulle brughiere, piumite in collina con inversione termica, temperature massime in giornata comprese tra 11 e 13 gradi, in serata formazione di banchi nuvolosi irregolari o nebbie sulla pianura padana.